Non sono d'accordo, proprio no, perché sono abituato a pagare il canone subito, appena arriva e sono posto per tutto l'anno. Non lo saprei, guarda veramente, ho sentito anch'io ma... Uno non serve che guardi il primo, il secondo della RAI o il terzo, voglio dire, puoi guardare Telequattro, puoi guardare altri canali. Uno schifo, perché dovrei pagare il canone a RAI, non lo guardo mai, quindi non credo si dovrebbe insistere su questa cosa. Che si paghi nella bolletta o che si paghi per le vie solite non cambia niente. Mi piace l'idea perché forse così pagheranno tutti e ne paghiamo solo che noi, quindi bene. Giusto, perché noi ne piacchiamo, però non vi so dire niente perché di queste cose invece mi morite. Già la bolletta elettrica è abbastanza pesante, se mettiamo anche i canone a RAI non so cosa succederà. Ecco, la gente non pagherà né la bolletta elettrica né i canone a RAI. Non è il modo giusto, perché sarà tutto un caos, ecco. Per chi che ha il televisore, penso che va bene, per chi che non lo ha. Ritengo sia giusto, visto che io la pago da tempo, l'unica cosa sarebbe da vedere chi non ha il televisore e che magari gli viene in posta. È un po' come mettere i soldi, come mettere le mani nelle tasche di italiani, sinceramente. È un po' un obbligo, no? Non penso, non penso, non sono favorevole, sinceramente. Che non è detto che tutti seguano quel canale, quella rete, non lo trovo giusto. Mi dobbiamo anche un euro il governamento.